La Lettonia si guadagna la Slovenia, Montenegro asfaltato La Lettonia devasta il Montenegro col punteggio di 168 al termine di una partita dominata praticamente dalla palla a 2. Timma con 21 punti e Porzingis con 19 trascinano la nazionale di Bagatzkis Per il Montenegro Dubljevic predica nel deserto con 21 punti frutto di un 6-6 dai 6.75 i 16 punti di Vucevic. Per Porzingis e compagni ora sfida alla Slovenia di Draghi, Don Cic e Randall fa i quarti di finale Smith colpisce da fuori, Vucevic risponde con un gioco da 3 punti, Diurisic e Blooms proseguono con il festival delle triple Porzingis entra in gara con un 2-1, 15-8, Vucevic è l'anima del Montenegro mentre Barovic, Davis Bertans e Timma portano il vantaggio della Lettonia in doppia cifra al termine del primo periodo, 27-15 Dubljevic e Vucevic firmano un 9-0 di parziale che riapre la gara, 27-24, Peiners blocca i Lettoni dalla lunetta prima di un alleio op di Porzingis ma Ivanovic con un arresto e Piro risponde per le rime Peiners e Strelniec trovano il fondo della retina da 3 e Timma pesca un gioco da 3 punti, 42-30. Botta e risposta Timma Dubljevic dai 6.75 mentre Porzingis si porta a casa il ferro, 49-33 Rich e Timma a cronometro fermo chiudono il primo tempo sul 53-37 La sagra del tiro da 3 punti prosegue nella terza frazione con Strelniec, Porzingis e Dubljevic sugli scudi E già Garbage time con la squadre che si scambiano canestro con canestro e con la Lettonia che raggiunge ben presto il più 30, 82-52, con un Timma bollente da 3, 4-4, che raggiunge quota 21 punti Dubljevic e Ivanovic ad inizio quarto periodo vanno a segno mentre da Ivis Bertans e Meyers danno spettacolo per i pochi spettatori presenti al Sinanerde Marena di Istanbul Grazulis e Vrangesti imbrano il punteggio finale sul 168 Grazie a tutti! Grazie a tutti!